Chiamerei al tavolo il dottor Crippa, che è l'altro dirigente che si occupa del rischio naturale, su questo tema. La gestione delle emergenze, stato di mobilitazione, potere di ordinanza, superamento delle emergenze e ritorno alle normali condizioni di vita. E' il capo secondo, sezione prima e capo quarto del codice di protezione civile. Buongiorno a tutti, cercherò anch'io di essere breve. Il compito che mi è stato affidato, il focus, chiamiamolo tema, che forse è più elegante o argomento, riguarda la gestione delle emergenze di livello nazionale. E' il capo quarto del codice della protezione civile. E questo è un aspetto significativo, in quanto questa serie di articoli regolano i rapporti quando si verificano degli eventi di livello nazionale. Ma gli eventi di livello nazionale non nascono già classificati di livello nazionale. Occorre un lavoro da parte delle regioni per pesare, e questo è già un lavoro di protezione civile, per pesare, dare un giusto significato agli eventi di protezione civile. Faccio un esempio. Noi negli ultimi dieci anni abbiamo avuto dagli enti locali quasi 8.000 segnalazioni di, con il nostro sistema di segnalazioni danni, RAS, 8.000 segnalazioni di eventi. Domani, qui a Milano, organizzato dalla nostra direzione generale, ci sarà un convegno organizzato col CNR, in cui presenteremo al nord Italia quali sono stati gli eventi calamitosi, in particolare per gli aspetti frane, dissesti, alluvioni, negli ultimi dieci anni. Certamente queste 8.000 segnalazioni negli ultimi dieci anni, che significano che ogni giorno noi abbiamo mediamente due enti locali che ci segnalano degli eventi calamitosi da gestire, certamente non sono tutti di livello nazionale. Quindi la nostra quotidianità è quella di continuamente pesare gli eventi, collocarli, come dice il codice, nella giusta ambito, che sia di livello locale, di livello regionale o di livello nazionale, e poi quando c'è il livello nazionale, utilizzare lo strumento, questo strumento nuovo, che è un passo avanti decisamente, per quanto riguarda le procedure, per cercare di regolare i nostri rapporti. Quindi sicuramente questo è un elemento di chiarezza per noi che ormai da quasi dieci anni gestiamo queste emergenze. Anticipo la domanda che voglio fare, ma non è una domanda, è un approfondimento su alcuni di questi articoli che vanno dal 23 al 30, che impattano tanto sulle regioni. La domanda è quella di cercare di dare un focus allo strumento operativo veramente fondamentale su cui tutti si confrontano, perché qui siamo operatori anche del settore, e il motore di questi rapporti regioni, Stato e Dipartimento, sono le ordinanze. Quindi la domanda è quella di capire un po' bene che cosa cambia dal punto di vista dell'innovazione rispetto al passato nella gestione dell'ordinanza. Però prima di lasciarti la parola, alcuni flash che mi sono appuntato non prima, ma durante la giornata. Ovviamente diceva Curcio, noi stiamo parlando di uno strumento, cioè questo codice è uno strumento, non è un risultato, è uno strumento. Quindi lo strumento va usato bene, è come un modello, però occorre la stoffa, occorrono gli attori, bisogna tagliare bene la stoffa, occorre un sarto che sia capace di tagliare la stoffa, e allora vengono anche risultati. Ci sono degli elementi ancora in capo alle regioni che devono essere affrontati. Uno è l'aspetto che diceva il nostro direttore generale Fabrizio Cristalli, che è questa particolare doppia natura, che ha ancora la normativa di protezione civile, in quanto qui troviamo fondamentalmente il primo aspetto, che è la tutela della popolazione, la tutela delle infrastrutture, delle cose essenziali. Poi c'è anche l'aspetto economico, ed è un'altra natura, che un po' esula dal nostro ambito di protezione civile. Noi non siamo area economica, ma dobbiamo trattare anche questo aspetto economico. Questa doppia natura è un po' lasciata nel piano degli interventi alle regioni, perché le regioni devono individuare nelle azioni, come diceva Giarola, le azioni sono importanti, non i programmi, le azioni. Io condivido questa impostazione. In queste azioni noi dobbiamo scegliere la priorità, se è più importante dare un sollievo a un ente locale che ha avuto degli esborsi imprevisti dal punto di vista economico, ma nel caso di un evento analogo torniamo al punto di prima, oppure se invece è più importante dare un'enfasi più significativa agli interventi di livello D, che sono quelli che qualificano veramente le azioni di protezione civile, che sono quelle di mitigazione del rischio residuo, che sono quelle che danno veramente risultati. Questo tema è un tema che dà la possibilità alle regioni di lavorare bene, devono lavorare bene su questo e fare delle scelte di indirizzo anche su questo. Questo è il primo flash. Quindi non siamo più in un codice olistico dal punto di vista della protezione civile, ma deve essere completato anche con le azioni quotidiane e regionali nell'ambito della propria programmazione. A dire il vero, il codice dà un aiuto, in quanto ripristinando, o meglio, riempendo il fondo regionale di protezione civile, che era sparito alla chetichella senza nessuna motivazione, Quindi, avendo riattivato questo fondo, significa, io penso, ma questa è un'interpretazione mia, mia nel senso di indicazioni regionali che abbiamo avuto. Cioè nel momento stesso in cui con grande responsabilità noi proponiamo che una serie di eventi, di danni, successi sul territorio, possano essere collocati su un piano nazionale ai sensi di questi articoli dal 23 in avanti, se per motivi economici, perché lo sappiamo che le risorse sono limitate, se questi interventi non possono essere oggetto di un aiuto dal punto di vista dei fondi citati, queste noi le abbiamo sempre ritenute come, con senso di responsabilità, un qualcosa che non va abbandonato, ma va caricato sul livello regionale. Questa è stata la strada di Regione Lombardia in questi anni. Quindi nel momento stesso in cui io azzardo ad affermare che questo può essere un intervento di livello nazionale, se non è di livello nazionale per qualche motivo, quantomeno me lo devo gestire per responsabilità a livello regionale. Mi sembra che qui ci vada incontro, non so se consapevolmente o no, alla nostra filosofia che abbiamo avuto. Ecco, quindi, tornando al tema, è importante capire queste ordinanze che passi avanti hanno fatto dal punto di vista procedurale. Una domanda ultima procedurale. Dato che noi come Regione Lombardia abbiamo delle specificità che sono state sottolineate anche dagli interventi precedenti, ad esempio abbiamo la possibilità di avere un quadro dei danni più veloce rispetto alla media italiana. E mentre qui l'articolo 23, no, l'articolo 24 in particolare, 25, differenzia gli step, il primo step per gli elementi di livello A e B, e poi il livello A e B, C e D. Noi saremo forse in grado anche di chiedere, ma non so se la procedura lo ammette, di chiedere una richiesta contestuale di tutti questi aspetti. Non so se è il rituale oppure se potrebbe essere anche ammessa. O per paradosso noi potremmo anche avere una situazione di questo tipo. Non attivare addirittura l'articolo 23, in quanto il livello locale risponde perfettamente, e passare subito al livello 24. Qui non lo dice, io ho una riflessione che abbiamo fatto anche con gli uffici, e questo dal punto di vista procedurale chiediamo se è possibile partire subito con l'articolo 24, a prescindere dall'articolo 24, senza passare attraverso questa mobilitazione generale. Questi sono poi i flash che riguardano questo titolo quarto. Partiamo da qui. Allora, lo stato di mobilitazione è una delle novità che c'è nel codice. Vale a dire, qual era il problema da cui è nato? Su cosa siamo confrontati? Che in molti casi il sistema di protezione civile non si attivava, diciamo, al massimo, o c'era la sensazione che non si attivasse al massimo delle proprie potenzialità, se non ha evento conclamato. Questo perché? Perché un'attivazione, magari preventiva, che magari consentiva, proprio perché preventiva, di ridurre l'impatto, e quindi non trasformare l'evento in una calamità, paradossalmente diventava un danno, perché poi l'attivazione di tutte quelle risorse doveva essere, come dire, sostenuta con le risorse proprie. Banalmente non ci movimentiamo troppo perché se poi non c'è l'emergenza nazionale non ci sono le risorse che ci consentono di coprire quei costi. Allora, lo stato di mobilitazione punta esattamente a risolvere questo problema. E vale a dire, il sistema si deve attivare al massimo delle sue capacità proprio per ridurre l'impatto degli eventi. E questo può anche essere di natura preventiva, quando vi sono fondati motivi per considerarlo. Non a caso è stato scritto che viene fatto su richiesta delle autorità territoriali che nel frattempo ti comunicano di avere dispiegato tutto quello che era disponibile sul territorio. A questo punto la norma prevede che questo stato di mobilitazione possa o meno sfociare in un evento, vale a dire che se magari questa mobilitazione è per un allerta meteorologico particolarmente severo, se poi l'evento non si manifesta nelle condizioni, nelle caratteristiche peggiori, lo stato di mobilitazione viene chiuso senza che si dia origine a una dichiarazione di emergenza, ma c'è la possibilità di andare a concorrere alla copertura dei costi operativi sostenuti per quello. Questa è una disposizione importante anche perché risolve alcune problematiche nella mobilitazione di alcune risorse anche statuali che in certi contesti avevano sempre un'incertezza. Vale a dire che anche la movimentazione di assetti nazionali al di fuori delle aree di diretta competenza innesca dei temi di costo che se poi non c'è l'emergenza nazionale che consente di farvi fronte, oggi sarebbero rimasti in sospeso. Quindi lo stato di mobilitazione punta a questo. Io devo garantire che il sistema si attivi al massimo delle sue capacità ogni qualvolta avvene l'esigenza. E se questa cosa consente magari o contribuisce al fatto che l'evento non si manifesti, o comunque se l'evento non si manifesta, ci sarà uno strumento per poter coprire le spese straordinarie sostenute, non integralmente, ma di concorso. Tutte queste norme, tu le hai ricordato bene, dicono che questo vale per l'emergenza nazionale. A livello regionale, le regioni possono costruirsi strumenti analoghi, ovviamente, con le proprie risorse, però il concetto è che io non andrò a pagare a piedi lista tutto quello che ognuno avrà fatto, ma ci sarà una regola che dovremo andare a definire, questa sarà una delle prime che faremo, le direttive principali saranno sicuramente quella sulla pianificazione, ma anche quella sulla determinazione dello stato di mobilitazione, e soprattutto di come io vado a fare la ricognizione di quei costi e come vado poi a coprirli, sul quale il Governo ha lasciato un ampio margine di responsabilità al Dipartimento, vale a dire che siccome quella copertura viene fatta con i fondi del FEN, Fondo per le Emergenze, il Fondo per le Emergenze Nazionali normalmente è autorizzato, l'impiego di quel fondo, con le delibere del Consiglio dei Ministri. Solo per queste attività sarà il Capo del Dipartimento a definire e decidere, ovviamente nell'ambito di queste regole che andremo a condividere, quindi è molto importante. Il tema è l'emergenza, come hai detto tu, qual era il problema anche lì da cui siamo partiti? Che le nuove disposizioni, prevedendo che i Consigli Ministri nel deliberare l'emergenza, doveva stanziare delle risorse, imponevano una rappresentazione della situazione e dell'impatto. Questo che cosa portava? Nei fatti. Cioè un principio in teoria condivisibile, ma nei fatti una criticità, perché significava che si verifica l'evento, io devo aspettare di avere una rappresentazione, perché dovendo dichiarare e stanziare i fondi, non posso stanziarli, come dire, a caso. Questo portava in molti casi lunghi temi. Noi abbiamo dichiarato delle emergenze a distanza di mesi dagli eventi, con ovvi problemi, compreso il fatto che le normative straordinarie intervenivano tre mesi dopo, disciplinando cose che erano in teoria state fatte tre mesi prima, con qualche problemino, come dire, di gerarchia e ordine delle fonti. Allora cosa abbiamo detto? Abbiamo diviso in due, anche perché l'esperienza di questi anni, dal 2012, quando questa norma è stata introdotta, ad oggi ci ha fatto dimostrare che quante volte noi abbiamo detto di no a delle richieste, sono poche rispetto al totale. Cioè significa che l'impatto dell'evento di solito è immediatamente percepito. Si tratta poi, il tempo che passa è per garantire quella quantificazione dell'impatto, ma che l'evento richieda l'intervento nazionale, di solito si coglie abbastanza facilmente. Noi abbiamo detto, in quel caso si fa una valutazione speditiva, che è proprio questa, immediata, viene fatta una dichiarazione in prossimità quindi dell'evento, non dobbiamo aspettare di fare relazioni, analisi dell'impatto, anche nel momento, se non nell'imminenza dell'evento, con un primo stanziamento, che è uno stanziamento, chiamiamolo contabilmente per memoria, cioè io metterò una cifra, che stabiliremo in forma ovviamente, come dire, astratta, identificativa, ma che ci consente di avere gli strumenti per operare immediatamente, cioè definirà la governance della gestione emergenziale, le misure di assistenza, sulle quali si potrà partire anche con, come dire, la serenità del fatto che il sistema è attivato ed è titolato ad operare. A quel punto mi prendo il tempo che ho bisogno, senza la pressione della mancata dichiarazione di emergenza, per fare una valutazione di impatto e stanziare le risorse che servono. Tu dici, è possibile concentrare due dei libri in una? Ovvio che sì, dipende dalle caratteristiche dell'evento e dalle caratteristiche con le quali viene fatta la rappresentazione dei fatti. In tutto questo sono fuori, lo diciamo per ricordarcelo tutti, le cosiddette maxi emergenze, una categoria che la legge non definisce, ma il terremoto Centro Italia, così come il terremoto 2012, come il terremoto dell'Acre, sono eventi che nella loro natura di per sé quindi escono da questa dinamica. Questo è il percorso, diciamo, per le emergenze ricorrenti. Non so se ho risposto alle tue domande. Sicuramente è importantissimo quello che hai detto tu, cioè che gli interventi della lettera cosiddetta D sono importanti. E questo l'abbiamo detto prima. La riduzione del rischio residuo oggi entra a pieno titolo. Addirittura noi abbiamo sprecisato anche una cosa che per un periodo non era stata più possibile, e cioè il fatto che io posso convogliare nella gestione emergenziale altre risorse che sono magari quelle risorse che fanno riferimento ai piani già esistenti. Abbiamo fatto un test con gli eventi di Livorno. a Livorno una parte dell'ecrisità è stata dovuta ad un rio tombato di cui era già in programma ed erano già state rese disponibili le risorse per fare la risistemazione e questo percorso è stato introdotto e verrà agevolato. Lì è stato un tentativo, come dire, innovativo. Oggi la legge ce lo codifica e ci dice che lo posso fare perché utilizzando quei fondi là, quindi non devo andarmi a cercare degli altri. Hai parlato del lavoro. Le ordinanze cambiano, sì, su alcuni aspetti. Vale a dire che noi abbiamo un po' arricchito i temi di cui le ordinanze si possono occupare. In particolare è stato inserito il tema della garanzia della continuità amministrativa dei territori, che è un problema significativo, e cioè soprattutto per il piccolo comune. I colleghi di Anci che hanno seguito il terremoto del centro Italia, ce n'è qualcuno qua in platea, lo sanno bene. Abbiamo inserito il fatto di poter inserire da subito delle prime misure di sostegno economico immediato, perché la legge ci dice che noi dobbiamo fare il ripriso nelle normali condizioni di vita e di lavoro. Questo è un elemento, faceva riferimento all'ingegner Curcio, a come cambia la società. Se io ho perso la casa e mi viene ridata una casa, il mio problema è stato risolto. Ma se la mia attività è stata interrotta, non è perché mi ridai la scatola dove la svolgevo che mi consenti di ripartire. Forse bisogna fare valutazioni diverse, forse bisogna anche fare una valutazione diversa sul fatto che l'intervento di una contribuzione più significativa può avvenire in un secondo momento, nella misura in cui io immediatamente posso darti quelle piccole contributo che ti serve per ripartire nell'immediato. Insomma, abbiamo cercato di darci qualche strumento in più, compreso il fatto che abbiamo codificato l'intervento post-emergenza, cioè la seconda fase, quella che in gergo in questi anni è stata chiamata fase 2, vale a dire, dicendo che sempre con il sistema di protezione civile posso fare anche un intervento sul fabbisogno dei danni ai privati, alle imprese, ai danni pubblici. Abbiamo codificato un processo nell'articolo 28, se non erro, che oggi era stato applicato in maniera solo sperimentale. Dove peraltro abbiamo detto due cose importanti, ci tengo a sottolineare, che per favorire un ricorso anche all'assicurazione privata, soprattutto nel settore delle imprese, i danni, siccome è un principio ormai consolidato, che i contributi vengono defalcati degli eventuali risarcimenti assicurativi, come ovvio che sia, questo alla fine si traduce in una penalizzazione. Chi si è assicurato alla fine non ha nessun beneficio in più, ma ci ha solo rimesso dei soldi prima. Quindi per ribaltare la logica, abbiamo detto, ricordando una norma che c'era, che era un po' passata, come dire, nel dimenticatoio, che a chi si è assicurato, oltre a garantire il contributo nella misura che diamo a tutti, quindi defalcando l'assicurazione, ma garantendo lo stesso livello di contribuzione pubblica, viene aggiunta una quota corrispondente ai premi assicurativi pagati nei cinque anni precedenti. In qualche modo c'è un riconoscimento dell'impegno che l'impresa o il singolo ha. E poi abbiamo, vabbè, era ovvio, precisato che gli edifici abusivi, le strutture abusive, sono insuperabilmente non ammesse a contributo. Due cose che fulmine su il tema degli eventi. L'articolo 7, che è quello che parla degli eventi di protezione civile, è un po' diverso dall'articolo 2, tu l'hai colta questa cosa. Cioè, il vecchio articolo 2 parlava di eventi A, B e C. Questi eventi A erano un po' una chimera. Cioè, che cos'era l'evento A? Perché sembrava che l'evento A, per come era scritto nel 225, fotografasse l'ordinario. Cioè, nessun evento. L'esempio che tu ci hai fatto delle 8000 segnalazioni, invece, va proprio a calarsi su questa cosa. Cioè, gli eventi di protezione civile sono comunque eventi che hanno una rilevanza emergenziale. Che poi, questo evento emergenziale sia gestibile in forma ordinaria con le strutture automatiche disponibili, è una possibilità. Se c'è una piccola colata di fango su una strada comunale, il comune interviene. Quello è sicuramente un evento significativo, però, da questo punto di vista, è un evento A. Cioè, è un evento che ha un impatto che viene gestito dalle strutture ordinarie senza bisogno di niente. L'evento B inserisce un elemento che è l'intervento coordinato e strumentazioni giuridiche straordinarie nei limiti delle capacità legislative regionali. L'evento C non è solo l'impatto dell'evento, ma è anche lo strumento straordinario che mi serve. Ricordiamoci, nella valutazione dell'emergenza non c'è solo la natura dell'evento, ma c'è anche il fatto che per superarlo io ho bisogno di uno strumento straordinario che non c'è, perché altrimenti non si giustifica. Da questo punto di vista tu hai detto cercare di fare il tema di un'attenzione specifica. Lo strumento di ordinanza è quello che governa il sistema del 92. Ha avuto varie vicissitudini, varie evoluzioni. Noi abbiamo cercato qui di consolidare le migliori esperienze di tutta la prospettiva. non ci siamo basati sugli ultimi anni, sugli anni precedenti, abbiamo guardato al meglio. E il meglio è operare nell'ambito di protezione civile e operare bene. Noi sotteniamo, l'abbiamo scritto in altri articoli, che c'è un tema di professionalizzazione degli operatori, significa anche il fatto che dobbiamo anche credere, essere convinti noi per primi che c'è una specificità, e cioè che la protezione civile fa delle cose e le fa bene. E deve impegnarsi per farle bene e meglio, ma non necessariamente deve fare qualunque cosa. Ecco perché l'ambito delle ordinanze non è una prateria, ma è in qualche modo identificato dalla norma. L'ultima cosa, hai citato, sì, noi parliamo di deroghe alle norme, dico solo questo aspetto perché è un punto chiave. Talvolta questo tema delle deroghe viene visto come una, scusate, non eravamo andati avanti neanche qua, era visto come un l'arrivo dei barbari, si distrugge tutto. Assolutamente no. L'esperienza degli ultimi anni ci ha portato a fare evidenziare che la protezione civile evidenzia delle esigenze specifiche che richiedono norme straordinarie, ma non necessariamente che quelle norme devono essere la cancellazione di quello che c'è. L'esperienza che abbiamo fatto con ANAC sulle norme del codice appalti nel terremoto del centro Italia ci ha dato un aiuto, vale a dire che abbiamo iniziato a lavorare sulle deroghe in maniera un po' diversa. Non mettiamo deroghe in generale ma diciamo a che cosa servono e come utilizzarle. Questo anche a garanzia degli operatori che quelle deroghe devono applicare sotto la propria responsabilità perché questo è un elemento che nessuna norma ci potrà mai togliere. Grazie Due comunicazioni La prima è riguardante i quesiti i miei collaboratori che sono quelli con la casacca blu che vedete in sala sono pronti a raccoglierle qualora desideraste potete anche un domani inviarle al sito formazione protezione civile tutto attaccato chiocciola regione lombardia punto it questo facilita eventualmente ulteriori trasmissioni se invece gradite potete consegnare ai collaboratori i quesiti che avete redatto nella mattinata ultima notizia riguarda il sesto punto lo casserei perché è stato già toccato in più momenti anche in modo esaustivo ed era quello riguardante gli aspetti finanziari e gli amministrativi ci siamo soffermati a seconda delle tematiche sui punti e credo sia stato ben chiarito questo aspetto grazie a tutti grazie a tutti